A Pescara ultimati lavori del mercato multietnico nel terzo tunnel della stazione ferroviaria. Ora si aspetta l'inaugurazione tra favorevoli e contrari. Per il responsabile immigrazione della CGL Patrick Guobadia si tratta di un fattore aggiunto per la città, mentre per Marco Forconi, portavoce del comitato non mercato etnico, quel tunnel è semplicemente un ghetto. Ora ci dovrebbe essere però l'assegnazione degli stalli, l'assegnazione delle postazioni Patrick. Sì, sicuramente sì, aspettiamo. Il mercato non è esclusivamente il paese negalese. Il bando fatto dall'aggiunta comunale era aperto a tutti. Il mercato come vedi il nome, molto etnico, sarà venduto i prodotti ecosolidari. Questo mercato, come dicevo anche prima, sarà un valore aggiunto per la comunità pescarense. Comunque non sappiamo ancora i vincitori di questo bando. Se fosse così è stato risposto soltanto il senegalese, mi viene da chiedere. Gli italiani non vogliono meschiare con questa comunità. Mi viene anche da ragionare un po' se c'è qualche rassismo strisciante. Noi non possiamo fare alcun processo all'intenzione, questo è ovvio. Sappiamo benissimo che secondo delibera di Giunta questo mercato è sperimentale per anni due. Vorrà dire che nel corso di questi due anni noi cittadini, associazioni, partiti e quant'altro, la prossima amministrazione anche magari, vigilerà in maniera molto attenta affinché non ci siano fenomeni di contraffazione o quant'altro. Mi sembra che non soltanto il centrodestra ma anche altri movimenti che stanno dentro il Consiglio Comunale hanno espresso la volontà comunque di inserire i commercianti, gli operatori senegalesi o di altre nazionalità all'interno dei vari mercati rionali. Questa si chiama integrazione. Abbiamo vissuto quel tempo di abusivismo. Questa volta un mercato legale, i prodotti saranno legali, anche le persone saranno in regola, anche le comunità stesse che faranno parte di questo mercato saranno vigili insieme alle istituzioni affinché non esiste tutta quella paura che uno può vendere le cose contraffatte. L'inaugurazione a breve, anche perché a Pescara si voterà il 26 maggio, nonostante i pareri contrastanti, Forconi e Gubadia si stringono la mano perché il dialogo deve essere alla base di tutto.